Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Nella giornata di oggi, mercoledì 25 settembre 2024, alle 14.30 alla Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano si sono svolti i funerali di Luca Salvadori, il pilota deceduto durante una gara su strada in Germania. A salutare il campione una marea di persone, tra cui anche una nota conduttrice TV che non è riuscita a trattenere le lacrime. Luca Salvadori, 32 anni, era il figlio di Maurizio, noto produttore milanese. Non è passata inosservata la presenza di Alba Parietti ai funerali di Luca Salvadori. La Parietti, ex del padre del ragazzo, non è riuscita a trattenere l'emozione ed è scoppiata in lacrime. Ai microfoni di donne sull'orlo di una crisi di nervi, Alba ha ricordato così il giovane pilota. Siamo tutti disperati, avrei voluto solo stare chiusa in camera a piangere. Sono molto legata a Maurizio da una grande amicizia. E Luca l'ho conosciuto bambino, un ragazzo meraviglioso e solare.